Giovanni Capuano, responsabile territoriale della CISL Funzione Pubblica del Comune di Pozzuolo, un stato di agitazione proclamato dai dipendenti comunali per diverse motivazioni. Sì, noi qualche settimana fa insieme a CGL Will abbiamo fatto una segretaria unitaria dove chiaramente è venuto fuori un'approssimazione di relazioni sindacali che ci stava tenendo una condizione di assoluta incertezza rispetto alle linee programmatiche e amministrative dell'amministrazione. Noi abbiamo, per sentito dire, e questo è già un fatto grave perché l'interlocutore giusto istituzionale delle amministrazioni sono le organizzazioni sindacali. Quando il sindacato è costretto ad assumere notizie attraverso i corridoi significa già che qualcosa non funziona. Però le notizie che ci arrivano sono il rinnovamento delle posizioni organizzative attraverso un concorso che non è proprio così chiaro come si sviluppa. Il fatto che i buoni pasto non si pagano, si pagano in ritardo. Il fatto che vengano appostati sul bilancio i soldi soltanto per tre mesi è buoni pasto quando poi ci sono altri nove mesi da dover soddisfare evidentemente questo porta a un problema che è quello di carattere economico-finanziario e se questo si riverbera anche sugli stipendi dei lavoratori cosa che puntualmente viene fuori ogni tre o quattro giorni la cosa diventa molto più complicata. Lo stato di agitazione è stato momentaneamente sospeso anche l'assemblea che era prevista è stata sospesa perché lunedì siete stati convocati all'amministrazione comunale? Sì, no, lo stato di agitazione rimane rimane perché chiaramente finché non ci sono risposte affermative o risposte che possono darci la possibilità di poter intavolare una contrattazione seria con l'amministrazione rimane. Quello che noi abbiamo posticipato è l'assemblea che chiaramente viene fatta il momento dopo che avremmo avuto questo incontro con l'amministrazione. Cosa vi aspettate? Ma io intanto mi aspetto che l'amministrazione possa fare con noi una programmazione e una piattaforma sindacale seria, costruttiva che vada al di là di quelli che sono i momenti, gli steccati del dirigente sì il dirigente no, perché anche queste poi sono notizie che arrivano cioè quelle lì di trovarsi di fronte a un'amministrazione che nonostante ha forti problemi dal punto di vista economico sta pensando di fare assunzione di dirigenti e questo chiaramente a uno che probabilmente un lavoratore che probabilmente avrà difficoltà a percepire lo stipendio come gli volevo spiegare.